Promossa dai club Le Mont Young e Lions Chiaia, in collaborazione con il club Leo Napoli Chiaia, si è tenuta a Castel del Ovo la conferenza di servizio sul tema Alleggeriamo il settimo continente. L'obiettivo è quello di evitare che il pianeta si trasformi in una pattomiera e per questo i Lions, con l'assessorato alla pesca della regione Campania, hanno organizzato un'iniziativa durante la quale esperti del settore si sono confrontati sul tema. Tra i relatori l'ordinario di ecologia dell'Università appartenendo a Giovanni Fulvio Russo, il dirigente del settore pesca della regione Campania, Antonello Carotenuto, la presidente dell'Ion Club Le Mont Young, Gianna Mazzarella e il consigliere all'agricoltura della regione Campania, Vito Amendolara, che ascoltiamo ai nostri microfoni. Lanciamo un'iniziativa straordinaria, la prima e unica in Italia, che è quella del cosiddetto miglio zero, cioè la possibilità di pescare il pesce, dare la possibilità ai pescatori di poterlo vendere direttamente ai cittadini consumatori. In occasione dell'evento che si è sviluppato nell'ambito di Vitigno Italia è stata anche allestita una mostra di foto subacquee dei fotografi Mimmo Roscigno, Enzo Troisi, Pasquale Vassallo e Guido Villani. Durante il lavoro è stato ricordato che il settimo continente è un'isola di rifiuti che si trova in un tratto di oceano tra Giappone ed Hawaii a 30 metri di profondità e raccoglie a causa di correnti particolari 40 milioni di tonnellate di detriti. Grazie. 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 Grazie.